Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 28 novembre. Cari signori, mancano 37 giorni, 5 ore, 30 minuti alle 12.30 del 4 gennaio 2023 quando il Milan comincerà il match contro la Salernitana. Ma mancano solo tre giorni perché giovedì pomeriggio, primo dicembre, il Milan riprenderà la preparazione proprio in vista di quel primo impegno importante contro la Salernitana. Sono ottimista perché ricordo ancora la preparazione, le strategie dopo lo stop lungo a causa del lockdown per rimettere subito ai massimi giri il motore del Milan. Stefano Pioli ci riuscì benissimo e quindi penso che nonostante là ci sia stato il gruppo intero, quindi la differenza è notevole, qua saranno tanti gruppi tra quelli che hanno giocato il mondiale, quelli che sono andati al mondiale senza giocare perché magari sono stati in panchina, quelli che sono reduci dai infortuni, quelli invece sani e lì dovrà riuscire a centellinare, l'abbiamo detto più di una volta. Ma sono ottimista perché pensate, il Milan è secondo e è andato in Europa senza il portiere più forte della scorsa stagione in Italia e uno dei più forti in Europa, Mignan. Quando dico così non pensate che io dica questo contro Tataruzano, no. Mignan per il Milan, l'ho già detto, rappresenta il sorgere, la sorgente del suo gioco perché è lui col passaggio col passaggio, lui che gioca un pochino più avanti, tornerà Calululi con Calabria a destra. Insomma sono ottimista perché dovremmo, speriamo, riprendere subito quella fisionomia di gioco, quella organizzazione di gioco che ci ha permesso di essere protagonisti ormai da due anni. Ecco perché proclamo il mio ottimismo. Senza Mignan, pensate, senza Mignan due mesi. Un mese e mezzo senza Calabria. Hanno fatto i miracoli, Pioli, il suo staff, i giocatori, che hanno dato, sono riusciti addirittura a trionfare, perché la partenza non era stata positiva, soprattutto dopo le due sconfitte col Chelsea, a trionfare in Champions League con due autorevoli 4 più 4, che non è il 4 più 4 di Nora Orlandi. Andate a vedere 4 più 4 di Nora Orlandi. Nora Orlandi non era una calciatrice, no. era la cantante che ha fondato questo gruppo musicale famoso negli anni 50, 60, 70 e all'inizio degli anni 80. Ecco perché quando penso a 4 più 4 mi viene in mente Nora Orlandi. Ebbene, stavo dicendo, il Milan è riuscito a bene, arrivare bene agli ottavi di finale di Champions League. Ci aspettano due mesi straordinari, due mesi straordinari, quello di gennaio e febbraio, perché saranno, o fino al 10 marzo, perché saranno quelli che metteranno le basi di un'ulteriore crescita eventuale, e speriamo, in Champions League, e dovrebbe mettere le basi per capire quale sarà il destino del Milan nel finale di stagione. A marzo, aprile e maggio sono tre mesi lunghi, con un Milan che ritorna con la sua corsia di destra, la corsia dell'equilibrio, ripresenterà un, speriamo, galvanizzati dalle imprese Leao e Teo Hernández. Perché devo essere negativo? Perché devo pensare a chi viene o a chi va nel calciomercato? Io vorrei che continuassero a giocare così in Italia e vedremo, e penso che il Milan in Europa non possa fare meglio. Se dovesse affrontare il Chelsea al massimo della condizione, o meglio una squadra come il Chelsea, della caratura del Chelsea, al massimo della condizione, potrà certamente essere più competitivo. Non voglio dire vincere o non vincere. In Milan poi c'è l'incognita meravigliosa Zlatan Ibrahimovic. Pensate se il suo ginocchio facesse giudizio, la sua condizione crescesse, quanto sarebbe un ulteriore a tu, che tu puoi mettere sul tavolo, un'ulteriore carta. Sarebbe un altro dei miracoli di Zlatan Ibrahimovic che galvanizzerebbe tutto l'ambiente. Ma per galvanizzare voi, ho detto che mancano 37 giorni, ne mancheranno 41 più o meno all'8 di gennaio, quando finalmente San Siro, a San Siro risuonerà ancora questa musica. La musica La musica La musica La musica La musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche la Francia, secondo me lì c'è stato Teo Hernandez e Giroux che hanno avuto l'idea, sembra che stia anche la Francia intonando Fried from Desire, la canzone di Gala, ma non so se France is on fire come Pioli is on fire. Ma anche la Francia, l'ha detto ieri sera in conferenza stampa Varane, canta forse in tona questo motivo. Insomma c'è tutta la voglia di risentire questo San Siro cantare, dico quattro giorni più dei 37 giorni, perché c'è Milan-Roma l'otto di gennaio, partitona. Milan-Roma dove potrebbe non essere in panchina Mourinho se gli dessero due giornate di squalifica. Lo dico semplicemente a livello di cronaca, a me interessa che ci sia il Milan con i suoi 11 grandi giocatori, dall'altra parte ci sia Mourinho, non ci sia Mourinho, ci sia questo giocatore o l'altro, a me interessa relativamente. Quindi vi ho dato questa panoramica perché fra tre giorni si riprende, si riprende la preparazione, cominceremo a parlare ancora di campo, non staremo a vedere quello che è successo ai mondiali, lo diremo, ma mi interessa quello che succederà in campo a Milanello intanto. Maldini e Massara che tornano a vedere la squadra e poi il 6 dicembre debutterà, non so se andrà subito a Milanello o meno, Giorgio Furlani che è il nuovo amministratore delegato. Il 5 dicembre sarà l'ultimo giorno di Aivan Gazzidis e quindi anche questo sarà uno degli avvenimenti importanti dei prossimi giorni, direi epocali, dei prossimi dieci giorni. E seguiremo con attenzione ogni evoluzione di questa nuova situazione a livello manageriale. Insomma, tante tante attese, tanto ottimismo, tanta voglia di Milan. Ma voglio adesso puntare, chiudere questo video ricordandovi innanzitutto che per me è una settimana importante perché sul canale Twitch della Gialappas e di Bepi TV cominceremo a commentare da sabato le partite degli ottavi di finale, tutte le partite fino alla finale del 18 appunto sul canale Twitch della Gialappas Band e di, io sarò con Giorgio Gerarducci e Marco Santini e sul canale Twitch sempre con i due componenti della Gialappas Band che proprio hanno mandato in libreria in questi giorni, mai dire noi, il loro nuovo libro e so anche sul canale Twitch di Bepi TV. Quindi sarà una settimana importante anche per me in questo senso. Non volevo parlare di mercato ma mi è venuta voglia. Mi è venuta voglia vedendo quel passaggio di Ziyech per il gol clamorosa, vittoria del Marocco sul Belgio. Belgio che ha inserito Lukaku senza successo, ha inserito anche De Ketelari. Speravamo tanto in questa, in una bella, in una bella avventura belga nel mondiale però l'avventura rischia di chiudersi molto presto, il Belgio deve battere a tutti i costi la Croazia altrimenti rischia tantissimo. È entrato De Ketelari nel momento più complicato, a un quarto d'ora della fine l'ha messo là davanti sperando in qualche colpo che poi non è mai venuto. Quindi ho visto questo Ziyech, grande passaggio e come vi ho detto mi dicono che non ci siano chance o pochissime chance però si spera sempre di magari veder cambiare le idee se magari nuova dirigenza, nuovo management, magari qualcosa potrebbe cambiare ma ripeto non mi faccio illusione. E poi questi rimpianti, lo ricordava ieri sul suo pezzo dominicale Pietro Mazzara su Milan News il Enzo Fernandez, il giocatore argentino che è andato al Benfica costato tanto ma piaceva molto al Milan il Milan ha atteso perché voleva capire l'evoluzione della situazione riguardante Renato Sanchez che poi è finito al Paris Saint Germain. Allora mi è venuta una pazza idea ma è venuta a me, non è venuta ai dirigenti del Milan ma per esempio questo Renato Sanchez che doveva venire al Milan dove sarebbe stato protagonista e sicuramente si sarebbe candidato a un posto in nazionale come mi sembra logico nazionale persa forse anche per problemi fisici ma non è che sia stato titolare assoluto nel Paris Saint Germain allora perché magari non approfittare di una situazione che non dovrebbe fare contento Renato Sanchez, non protagonista nel Paris Saint Germain che ha perso l'occasione del Mondiale perché magari non chiedere al Paris Saint Germain magari avere Renato Sanchez in prestito il giocatore ideale, perfetto come numero 10 del Milan secondo le idee tattiche le strategie e la filosofia di Stefano Pioli il giocatore ideale io ho fatto un grande tifo per la presenza, la personalità la statura di questo giocatore che permetterebbe anche una crescita più graduale senza pressione dei chetelare mi interessa la vostra opinione e qui in mancanza di notizie certe per quello che riguarda il mercato del Milan si ipotizza ecco lo rilasciatemi così avere una riflessione a voce alta ma Renato Sanchez anche averlo da gennaio ben inteso in prestito ma che acquisto sarebbe io mi auguro proprio che ci siano questi pensamenti per potenziare una squadra già forte ma un Renato Sanchez là uno zieca a destra che ho visto in buone condizioni sempre prestito non parlo di investimenti non parlo di non sostenibilità prestiti, prestiti, prestiti come mi hanno sempre insegnato gli stessi dirigenti del Milan incomincia a prenderlo ci aiuti a vincere poi ci penseremo a a nell'estate prossima a giugno o a luglio se prenderlo o no un diciamo un modo di lavorare che ci ha permesso per esempio l'esplosione di un giocatore come Tomori se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella a Grazie a tutti.